Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo, il nuovo mouse wireless e bluetooth Qatar Pro di Corsair. Prima di parlarvi del mouse vediamo cosa si cela nella confezione. Abbiamo il manuale di istruzioni dettagliato con tutte le varie configurazioni, utilizzi e quant'altro e naturalmente la garanzia. Inoltre poi abbiamo il mouse con una batteria che ho già inserito e che va inserita appunto qui dentro, vedete? Abbiamo una batteria nella confezione. Il mouse è wireless, non va collegato con il cavo, non si ricarica con il cavo, vedete non c'è proprio alcun attacco per il cavo. Funziona solo via wireless o via bluetooth. Nella parte diciamo sottostante abbiamo uno switch, un interruttore, che per permette di accendere il mouse in modalità wireless, accenderlo in bluetooth o spegnerlo. Quindi diciamo potete decidere voi se utilizzare il mouse via wireless, bluetooth oppure insomma spegnerlo. Il mouse presenta un led nella parte superiore che ne indica il funzionamento e che naturalmente può essere personalizzato, come la mappatura dei pochi tasti a disposizione, tramite il software ufficiale di Corsair che dovete ovviamente scaricare e installare manualmente tramite il sito web ufficiale. All'interno del mouse trovate naturalmente il dongle, eccolo qua, la chiavetta da collegare al vostro pc per utilizzare il mouse via wireless. Se avete anche il bluetooth sul pc potete tranquillamente stabilire la connessione ed utilizzarlo. Da elogiare subito una cosa. Personalmente sono un tipo che odia i mouse che nel corso del tempo tendono a diventare lisci a causa dell'usura. Sono più per i mouse ruvidi e Corsair ha deciso di adottare una soluzione a mio avviso vincente in quanto il materiale utilizzato per la realizzazione della scocca, come potete udire, è ruido e non è la solita gomma che viene posizionata sui bordi e che nel corso del tempo poi con il sudore tende a consumarsi. È ruvido, è proprio la scocca ruvida e ciò permette di utilizzare il mouse per lunghe sessioni nel corso del tempo senza ritrovarsi magari un mouse liscio. Se ai lati abbiamo questo materiale ruvido il dorso invece è ruvido ma allo stesso tempo liscio. Diciamo l'impatto tra i laterali e il dorso è leggermente differente perché sul dorso abbiamo un materiale ruvido ma allo stesso tempo liscio mentre i laterali sono ruvidi. Questo per favorire una solida e comoda impugnatura. Il mouse gaming di Corsair non è un mouse dalle grandi pretese. Non ci sono tanti tasti mappabili a parte questi classici due tasti che di solito vengono utilizzati per andare avanti e indietro di pagine e lo scroller che può essere ovviamente anche premuto. Lo scroller a differenza della scocca è realizzato con un materiale ruvido ma gommoso quindi è il classico poi materiale gommoso che trovate ai lati ma diciamo lo scroller è difficile che diventi liscio nel corso del tempo a differenza ovviamente dell'impugnatura. Il mouse è molto molto leggero di piccole dimensioni lo diciamo posiziona accanto ad un mouse logitech come potete vedere è molto piccolo e diciamo se avete una mano grossa come la mia potreste avere problemi ad impugnarlo completamente però diciamo si adagia perfettamente al palmo della vostra mano quindi potete utilizzarlo tranquillamente per lavoro o per gioco. Ovviamente non è un mouse per fps, MOBA, MMORPG, ORPG eccetera. È un mouse più che altro per lavoro, per i punti e clicca e per giochi puzzle quindi mouse senza pretese, economico ma di alta qualità. Ripeto la scocca è ruvida e ciò permette di utilizzare il mouse per lungo tempo senza ritrovarvi magari questo fastidio. Vedete che il mouse nel corso del tempo tende a diventare liscio a causa appunto dell'usura e dell'uso nel tempo. Ripeto il mouse è wireless e bluetooth non può essere ricaricato con il cavo dovete sostituire la batteria o utilizzare una batteria ricaricabile con una sola carica ci fate se non erro fino a 135 ore e può arrivare fino a 10.000 dpi per quanto riguarda la configurazione qui per il movimento del mouse quindi tenete presente questo. Se siete interessati all'acquisto lo trovate su Amazon sul sito web ufficiale rivenditori specializzati.